Ciao ragazzi, bentornati sul canale di MCA, mondo carriera allenatore, io sono sempre Andre e oggi ancora come ogni sabato siamo qua con un nuovo video sui consigli per le vostre carriere di FIFA 21 Ormai magari siamo arrivati alla fine di questo FIFA, avete fatto tante carriere, vi servono nuovi stimoli per farne altre e noi eccoci qua che compariamo e vi diamo nuovi consigli con nuove carriere, nuovi obiettivi, nuovi ostacoli, tutto quello che volete Ed infatti oggi siamo qua con due carriere molto particolari, allora uno come avete visto da copertina con il Dundee United in Scozia e l'altra con l'atletico Bilbao in Spagna Due carriere veramente molto interessanti, soprattutto la prima che vi sto per spiegare e raccontare, infatti siamo qua con il Dundee United, si vuole in Scozia ragazzi Perché il Dundee è una società calcistica scozzese con sede nella città di Dundee, chiaramente Milita nella Scottish Premiership, la prima divisione scozzese Tra i torfri nazionali il Dundee United conta un campionato, due coppie di Scozia e due coppie di Liga Nelle competizioni europee è la quarta squadra scozzese per esperienza, quindi non stiamo parlando di una squadra qualsiasi, comunque il Dundee è molto interessante L'apice in campo europeo fu raggiunto con la Coppa UEFA 1986-87, quando il Dundee United divenne la prima squadra di Scozia ad arrivare in finale Però l'ha perse, nonostante la sconfitta in finale contro il Gotteborg, la FIFA premiò la squadra con l'appena nato trofeo del Fair Play Play Award Per il comportamento tenuto dei propri tifosi durante tutto il torneo Quindi è una società che sì, ha una bellissima storia, che comunque è arrivata quasi all'apice a vincere il trofeo Ma comunque con basi molto solide e grandissimo rispetto della società e dei tifosi Dopo la retrocessione però, nella stagione 2015-2016 e dopo vari tentativi di ritornare in massima serie Quattro anni dopo, nel campionato 2019-2020, il Dundee parte favorito e distanza di avversari fin dalle prime giornate Raggiungendo un vantaggio massimo di oltre 15 punti sull'Inverness, il diretto inseguitore L'interruzione della Championship per la pandemia di Covid, ragazzi, cristallizza la classifica e sancisce il ritorno in premiership del Dundee United dopo quattro anni La rivalità più sentita è con l'Aberdine, contro il cui il Dundee United disputa il New Firm Derby Che ha vissuto il suo periodo d'oro negli anni 80, quando entrambe le squadre vinsero gran parte dei loro trofei Quindi, ragazzi, vedete che c'è una bellissima storia sotto, eh? E ora andiamo a vedere un attimo gli obiettivi stagionali per questo Dundee Che sono quattro stagioni, diciamo così, o tre o cinque, insomma, quelle che volete voi Comunque, di base, la prima stagione arriva tra le prime otto posizioni nella regular season In rosa devono essere presenti almeno 16 scozzesi Siamo in Scozia, facciamo giocare tanti scozzesi Perché comunque, ragazzi, gli scozzesi sono molto forti L'abbiamo vista dei top 11 talenti scozzesi e sono veramente molto interessanti Comunque, la seconda stagione Arriva tra le prime sei nella regular season E qualifica te l'Europa League tramite i play-off o vincendo la Coppa di Scozia Quindi qua vogliamo già andare oltre il campionato Oltre la Scozia e andare in ambito europeo nell'Europa League La terza stagione Vinci i play-off qualificandoti ai preliminari di Champions League Nella regular season cerca di ottenere una striscia di imbattibilità di almeno 10 partite In Europa League supera i sedicesimi di finale Quindi qua vogliamo vincere, premi di tutto E insomma, non è molto semplice questa La quarta stagione Vinci i regular season e i play-off In Champions League cerca di arrivare almeno ai quarti Nella quinta stagione concentrati a vincere la Champions E a completare il triplete scozzese Quindi se non ci riuscite alla quarta stagione o prima La quinta stagione vogliamo un bel triplete Regole per una difficoltà maggiore Alla fine di ogni stagione Devi rinegoziare il contratto del miglior marcatore del club Aumentandogli lo stipendio Puoi acquistare solo giocatori del Regno Unito E massimo un giocatore a stagione di altre nazionalità Come potete vedere i giocatori più forti in rosa sono Shankland, McNulty e Robson Ovviamente tutti scozzesi, due attaccanti e un terzino I giovani in rosa abbiamo Bolton, terzino destro con 78 di potenziale Fuchs con 77 di potenziale, una mezzala E un difensore centrale scozzese, Nielson, 74 di potenziale Le maglie direi che sono molto interessanti Anche quella viola è molto carina Però lo stadio purtroppo non è presente su FIFA I giocatori che vi consigliamo Chiaramente per andare a completare un po' la vostra rosa e i vostri obiettivi Sono chiaramente tre scozzesi Sono Anderson, 80 di potenziale, CEC molto forte Porteus, difensore centrale, 81 di potenziale E l'altro scozzese è Herahon, terzino sinistro, molto interessante con 79 di potenziale Poi abbiamo Smallbone, 80 di potenziale del Southampton, mezzala molto interessante Smith, 78 di potenziale, gallese, mezzala E un portiere Traverse, 78 di potenziale Beh direi che ci sono tutte le carte in regola per andare a fare una bellissima carriera E anche un po' particolare Perché secondo me è una carriera col Dandy in Scozia Non tutti sanno come impostarla Insomma, ora però vogliamo In Spagna, esatto Andiamo all'Atletic Bibau Una squadra diciamo un po' più conosciuta sicuramente rispetto al Dandy Beh voglio dire, mi sembra abbastanza normale Però comunque è una sfida molto interessante per le vostre carriere Solo giocatori baschi e della cantera E bisogna portare in alto il club continuando a seguire le dure politiche di tesseramento Sappiamo che comunque l'Atletic Bilbao ha una grande base di giocatori baschi Quindi adesso andiamo un po' a vedere la storia La Basque Mission, infatti L'Atletic Bilbao ha sede a Bilbao chiaramente Nella provincia di Biscaglia, nei paesi baschi È uno dei tre club spagnoli ad aver partecipato a tutte le edizioni della Premier Division È inoltre, dopo il Barcellona Real, la terza squadra più titolata di Spagna Potendo contare sul suo palmarès 8 campionati di massima divisione 23 Coppe del Re 2 Supercoppe di Spagna E una Coppa Eva Duarte Per un totale di 34 trofei ufficiali Tutti a livello nazionale A livello europeo I migliori risultati è stata la finale di Coppa UEFA 76-77 Che la squadra perse contro la Juventus E la finale di Europa League nel 2011-2012 Sconfitta subita dall'Atletico Madrid Per 3-0 in finale Quindi comunque è una bellissima società Il club è noto per la sua politica di tesseramento di solo giocatori baschi O di origini basche Oppure che si siano formati nelle giovanili di un club basco Nel 2010 un sondaggio condotto tra i tifosi dell'Atletic Dà alla dirigenza circa la possibilità di tesserare giocatori stranieri Cambiando le regole del tesseramento Ebbe come risultato il 93% di risposte negative Quindi è proprio anche i tifosi che vogliono questo patriottismo quasi È una cosa molto interessante che ormai diciamo che nessuna squadra è in grado di avere Un secondo sondaggio relativo alla possibilità di tesserare giocatori oriundi Quindi stranieri di origini basche Ebbe come risultato il 57% di risposte affermative Ma solo se di prima generazione con genitori o nonni baschi Oppure che abbiano iniziato a giocare nelle giovani di squadre basche Quindi veramente è fortissima questo spirito patriottico È molto interessante Quindi gli obiettivi di questa carriera Sono la prima stagione qualifica Tele Champions League Arrivando tra i primi quattro in campionato e arriva almeno ai quarti della Coppa del Re Comunque gli obiettivi qua bisogna puntare in alto perché la squadra è veramente forte e competitiva La seconda stagione riconferma il piazzamento in Champions Prova ad arrivare almeno agli ottavi in quest'ultima competizione Quindi in Champions E c'entra tutti gli obiettivi della dirigenza La terza stagione punta a vincere il campionato e la Coppa del Re Nella quarta barra quinta prova a vincere anche la Champions League Sarebbe il primo trofeo europeo del club E io vi dico anche provate sto triplete Dai ragazzi Le regole per una difficoltà maggiore sono Puoi comprare esclusivamente giocatori baschi Beh chiaramente Di origine basca O giovani dal proprio vivaio Quindi questa diciamo è la politica Anche dei tifosi E non soltanto della società Consigliamo di non inserire le trattative rigide Per questa challenge Visto le poche scelte di mercato Insomma se volete metterne a vostro rischio e pericolo Noi vi abbiamo avvisato I migliori giocatori sono Unai Simon Unai Nunez E Williams Ignaki Che sono veramente giocatori Pazzeschi Fortissimi C'è lo stadio Ci sono 34 trofei Le maglie sono molto interessanti E il Real Sociedad Diciamo è la diretta Avversaria E i giocatori consigliati ragazzi Qua ce ne sono veramente Tanti Questi qua sono tutti giocatori comunque Di origine basca Non ve li sto a elencare tutti Vi dico i migliori Perché se no qua finiamo domani mattina A elencarveli tutti Però vi dico un po' i migliori La cosa che c'è da dire L'abbiamo anche scritto I giocatori del Real Sociedad Che vedete Già segnati Non sono molto consigliati Vista la rivalità Tra i club Però sono comunque I giocatori baschi E quindi Li abbiamo inseriti Sicuramente Vabbè Griezmann Molto interessante Ander Herrera Kepa Aitor Molto forte Aspiliqueta Ormai è un po' vecchiotto Laporte Una volta raggiunto Un po' di soldi Per il resto ragazzi Sono tutti giocatori molto interessanti Lo stesso O Yarzabal O Barrentexa Sono veramente Molto interessanti Quindi ragazzi Siamo arrivati alla fine Di questo video Di queste carriere consigliate Commentate come sempre Quale delle due O Se le farete Entrambi Però sono molto curioso Di sapere quale delle due Preferite E proverete a fare Iscrivetevi al canale Attivate la campanella Lasciate un mi piace E ci sentiamo Al prossimo video Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi